La polizia sospetta di Marina e di Lara in merito all'aggressione che ha subito Roberto Ferri. Al momento sono loro le due principali indagate per questo episodio ma noi sappiamo bene che nessuna delle due è colpevole di quanto accaduto a Roberto Ferri perché l'unica responsabile è suor Maura. È stata lei ad aggredire Roberto, suor Maura che ha incontrato Roberto, è andata incontro a Roberto dopo che l'ha visto uscire a casa di Lara e qui i due hanno avuto una litigata molto pesante con suor Maura che diceva a Roberto di essere il demonio, di stare lontano assolutamente da Lara perché lei è un'anima tormentata che sta cercando di aiutare e che non potrà mai farlo del tutto se di mezzo continuerà ad esserci Roberto. Roberto che a quel punto ha detto a suor Maura faccia un po' come le pare torni pure dalla sua anima tormentata ma sappia che Lara è una donna che non cambierà mai. E Roberto a un certo punto poi ha dato le spalle a suor Maura per salire in macchina ed è in quel preciso momento che suor Maura ha colpito Roberto con il suo bastone ed è così che è andata realmente. Sor Maura che poi è sparita per diversi giorni non si è fatta nemmeno trovare da Lara, le altre suori le hanno detto che era di ritiro spirituale ma poi finalmente sor Maura si è decisa ad incontrare Lara. È andata a casa sua, Lara che l'abbiamo vista molto contenta di rivedere sor Maura, l'ha abbracciata, le ha detto io non centro assolutamente nulla con l'aggressione a Roberto, sono innocente e sor Maura ha detto Lara io devo parlarti e le ha confessato di essere stata lei ad aggredire Roberto. Lara che però a quanto abbiamo visto vuole assolutamente aiutare Sor Maura non vuole che lei vada alla polizia a raccontare tutto perché Sor Maura è una persona che nella sua vita comunque ha fatto tanto bene e non è giusto che paghi per un unico errore. Queste sono state le parole di Lara ma Sor Maura dice io non posso mandare in galera un innocente a posto mio. Pente invece Lara insiste, cerca di convincere Sor Maura a non andare alla polizia, le dice anche lasci che incriminino Marina e però Sor Maura dice guarda che anche tu puoi essere condannata, però dal canto su Lara dice questo non sarebbe pura fino un gran danno perché io comunque non sono meglio di Marina o di Roberto, visto le cose che sappiamo bene quello che ha combinato in passato Lara. Mentre invece lei no, lei Sor Maura è una persona buona appunto che ha sempre fatto del bene non è giusto che paghi per un unico errore. E quindi abbiamo visto Lara che vuole aiutare assolutamente Sor Maura e vuole essere lei invece in questa situazione ad aiutarla. Visto che Sor Maura ha sempre cercato di aiutare Lara e la sta ancora aiutando e da canto suo forse Lara vede in Sor Maura l'unica sua salvezza per uscire da questa situazione che è una storia lunghissima e sappiamo bene che Lara sta facendo il suo percorso di redenzione e lo sta facendo, sta facendo questo percorso con l'aiuto di Sor Maura che evidentemente per Lara è molto importante. E a questo punto però io voglio chiederti secondo te cosa accadrà? Sor Maura alla fine deciderà di andare ugualmente alla polizia oppure Roberto ricorderà dell'aggressione subita e quindi ricorderà alla fine quanto è successo e quindi sarà lui a dire alla polizia alla polizia che è stata Sor Maura ad aggredirlo? Eh, qui ci sono diverse situazioni in ballo e fatto sta che sono curiosa di conoscere la tua opinione. Secondo te alla fine Sor Maura andrà in carcere o no? Scrivi tutte le tue opinioni nei commenti, ti invito anche ad iscriverti al mio canale YouTube perché solo così rimarrai aggiornato sui prossimi video in uscita su Un Posto al Sole ma anche su tanti altri argomenti. E noi a questo punto ci vediamo al più presto con un nuovo video. Ciao!